L'attesa è finita. Con questo match si apre la fase a gironi del torneo. Ora sì che si fa sul serio. Benvenuti da Fabio Caressa, qui con me per il commento tecnico c'è Luca Marchegiani. E dunque, calcio d'inizio. Chance per tirare. Assegnato! Tutto è partito da un passaggio intercettato. Nel calcio di oggi, riconquistare palla nella metà campo avversaria diventa fondamentale per costruire occasioni da gol. E la partita inizia alla grande. Subito gol. Occhio al lancio lungo. Colpisce il pallone. Palo. Interviene tempestivamente. Vuole la profondità. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Può andare. Palla dentro, c'è il gol. Ora doppio vantaggio per loro. E non poteva mancare un'occasione del genere. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. 2 a 0 dunque. Sull'1 a 0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Canundreva mette la palla dentro. Allontana il pericolo. El Sharawi. Palla giocata in profondità. Markovic. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Cerca spazio. Riescono a mettere fuori. C'erano diversi compagni pronti là davanti. Il cross però è stato impreciso. Markovic. Si riparte con un fallo laterale. Palla in out. Ci sarà rimesso a laterale. Si beve anche lui. Cross. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale. Anzi, tutt'altro. Costringe l'avversario al fallo. La prende piena. Si è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. L'arbitro manda tutti a prendere un teccaldo. Si chiude così il primo tempo. 2 a 0 dunque alla fine di questa prima frazione. Partiti. E' iniziato il secondo tempo. Avanza da solo. Palla in out. Ci sarà rimesso a laterale. Prova il cross. Sale in cielo per il colpo di testa. marcovici. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Perde il duello fisico con l'avversario. Costringe l'avversario al fallo. La sportellate con il suo marcatore. Continua ad avanzare, ma c'è poco movimento dei compagni. La mette dentro. Prova a colpire il volo. E arriva il gol. E con un vantaggio di tre gol la partita è quasi chiusa. Bellissimo il gol al volo. Gran gesto tecnico. Sapeva già dove sarebbe arrivato il cross. E ha colpito benissimo il volo. 3-0 dunque. Kolarov. Intercetta il passaggio. Pericolo. Spazza via la palla. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Attenzione! Gran tiro e grande risposta del portiere. Hanno sfruttato benissimo il barco centrale. Procurandosi una grande occasione. Cercherà di metterla in mezzo. La difesa fa il suo, allontana la palla. Hanno ottenuto un fallo laterale. Eccolo qui. E' arrivato il momento del cambio. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Tosic. Cerca spazio. Situzione spinosa ma il suo intervento è stato provvidenziale. C'è spazio per calciare. C'è spazio per calciare. C'è spazio per calciare. Occhio per calciare. Occhio può andare. Occasione. Grande intervento. Cerca la soluzione aerea. Cerca il passaggio in profondità. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Grande inizio. Arrivano i primi tre punti della stagione. Una bella vittoria. Una prestazione molto confortante. Una partita vivace. In cui non sono mancate le occasioni da gol. Entrambe le squadre ce l'hanno messa tutta per avere la meglio sugli avversari. Il passaggio in profondità. Grazie a tutti.